Weee che cactus fai? Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR. Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE. DAIE! E' bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video. Io sono XIUDER e ragazzi sfide della modalità fai centro in centro. Ci chiedono di trovare ragazzi la sagoma di John C. Jones dietro una recinzione. Come vedete la partita è iniziata da pochissimo. Siamo arrivati ragazzi in questo punto. Vediamo se riesco prima che mi buttano. Aspetta ti faccio capire dove sono perché la sagoma di John C. è proprio dietro qua ragazzi. Siamo in poche parole subito dopo il secondo angolo. Come vedete voi state sempre sulla sinistra anche dalla partenza. Troverete queste staccionate che vi permettono di entrare in questo vicolo. e come vedete ragazzi dietro questa recinzione c'è proprio John C. Jones. Mi dà la missione e tra l'altro c'è anche una scarpa per fare la seconda missione che è quella che vi dice di raccogliere una moneta, una palla da basket e una scarpa in un unico match. Io vi ringrazio tantissimo ragazzi per aver guardato questo video. Mi raccomando un bel pollicione in su. Iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo alle 13 in live. Ciao!